ciao a tutti oggi andremo a realizzare le foglie coleus blumei all'uncinetto nella foto precedente io quella pianta l'ho realizzata con una lana oggi vi farò vedere come farla col cotone voi siete liberi di usare qualsiasi filato che preferite per quanto riguarda il cotone andremo a usare cotone numero 8 rosa ma si può anche realizzare col fucsia marrone il cotone numero 5 verde scuro poi uncinetto 1,50 forbici tronchesse e filo metallico 0,6 mm mi lascio al tutorial iniziamo col filato rosa e avviamo 31 catenelle iniziamo col fucsia marrone adesso andremo a fare 5 maglie basse 1,50 1,50 1,50 3,50 4,50 Cinque. Cinque maglie alte. Due. Tre. Quattro. E cinque. Dieci maglie altissime. Uno. Due. E completate le dieci maglie altissime, adesso andremo a fare cinque maglie alte. Dieci maglie alte. Grazie a tutti. 5 maie basse. Adesso giriamo dall'altro lato e andremo a fare 5 maglie basse. In quest'ultima facciamo un'altra maglia bassa. Grazie a tutti. 5 maie alte. 5 maie basse. 10 maie altissime. 5 maie basse. 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 6 maie basse. 5 maie basse. 6 maie basse. 6 maie basse. 6 maie basse. 6 maie basse. 7 maie basse. 7 maie basse. 6 maie basse. adesso prendete il filato marrone, fate un cappietto, lo agganciamo alla nostra foglia con una maglia bassa, pian piano andremo a nascondere questa codina, quindi la prima maglia bassa, la prima effettuata, facciamo un'altra maglia bassa e adesso andremo a fare questo lavoro, facciamo una maglia bassa allungata in questo modo, entriamo qui, prendiamo il filo morbidi, lo tiriamo su, facciamo una maglia bassa, quindi altre due maglie basse, poi entrate in una maglia bassa qui, bassa non perché la maglia è una maglia bassa, ma perché si trova qui sotto, allungate e facciamo un'altra maglia bassa, adesso pian piano ve lo faccio vedere perché è più difficile a spiegarlo che a vedersi, quindi due maglie basse, una, due, entriamo qui, tiriamo fino a su e facciamo una maglia bassa, due maglia bassa, due maglie basse, tiriamo morbidi e facciamo una maglia bassa, bianco, bosco, più temere, lo facciamo un po' per tutto il giro, ho completato il giro, io ho chiuso con una maglia bassissima adesso andiamo a prendere il filato verde e un pezzo di filo metallico dobbiamo incorporare il filo alla foglia vi faccio vedere come incorporare il filo metallico prendiamo il filo spero si veda bene facciamo la prima maglia bassa facciamo un'altra maglia bassa alla terza maglia bassa facciamo un peppiolino in questo modo 3 catenelle 1, 2, 3 una maglia bassissima e la prima di nuovo 3 maglie basse un peppiolino 3 maglie basse un peppiolino dobbiamo fare così per tutto il giro completato il giro dobbiamo fare una maglia bassissima tagliamo il filo e chiudiamo adesso un attimo lo faccio vedere meglio cerchiamo di modellare con le mani tagli una volta e attorcigliare il filo questa è la foglia grande del coleus bloom hay adesso andremo a realizzare le altre quella media e quella piccola per fare la foglia media sempre col filato rosa andiamo a realizzare 26 catenelle poi facciamo 5 maglie basse 5 maglie alte 5 maglie alte 5 maglie alte 5 maglie altissime 6 maglie alte 6 maglie alte 5 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 maglie basse tagliamo il filo e chiudiamo adesso andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto poco fa prendiamo il filato marrone lo agganciamo con una maglia bassa facciamo due maglie basse quindi la prima l'abbiamo fatto facciamo la seconda e una maglia morbida bassa allunghiamo facciamo la maglia basse e una maglia morbida bassa e una maglia morbida vedete non importa che siano tutte uguali le maglie basse qui questa è morbida l'importante è che le allungate due maglie basse due maglie basse e una maglia morbida facciamo così per tutto il giro adesso stessa cosa di poco fa col filato verde facciamo un campietto prendiamo il filo metallico e lo incorporiamo e lo incorporiamo facciamo tre maglie basse e un pippiolino 1,2,3 una maglia bassissima nella prima maglia di nuovo 1,2,3 un pippiolino 3 maglia bassissima e un pippiolino facciamo così per tutto il giro completato il giro facciamo la maglia bassissima tagliamo il filo e chiudiamo io l'ho tagliato un po' corto voi non fate il mio stesso errore ce l'abbiamo fatta ok anche qui modelliamo e addorciiamo e questa è la foglia media di fatto quella grande e quella media andiamo a realizzare quella piccola prendiamo di nuovo il filato rosa e abbiamo 21 catenelle e le ho già fatte adesso andremo a realizzare 5 maglie basse 5 maglie basse e le ho già fatte grazie a tutti e le ho già fatte 5 maie altissime 5 maia scusate 5 e mezze magliate 5 maie altissime L'altra è grande Tornera Adesso giriamo dall'altra parte 5 maie altissime La prima la facciamo qui, abbiamo fatto l'ultima da questo lato. 5 maglie altissime. 5 maglie alte. 5 maglie alte. 6 maglie alte. Tagliamo il filo e chiudiamo. 6 maglie alte. 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 7 maglie alte.